salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un nuovo video allora perché oggi ho deciso di fare questo video solo per dedicare un video a un mio carissimo e fedelissimo amico di nome Gaetano Scalabra allora per quale motivo ho messo questa maglia originale ragazzi perché guardate attentamente nelle mie spalle c'ho il mio nome sulla maglia e c'ho pure il numero se lo vedete qua avete capito allora allora quelli che tifano veramente quelli che sono veri tifosi della Juventus viene prima di tutto la squadra e non il singolo guard ragazzi lo dovete capire allora c'è anche vita senza Cristiano Ronaldo ragazzi lo dovete capire e Gaetano Scalabra fa bene a dire Vermesette proprio mi fa ridere quando sento Vermesette ma e dice spero che la Juventus si liberi di quel Verme ma allora lui dice che la maglia l'ha gettata forse a terra vuol dire che è un vero tradimento allora qua mi è caduto nel cuore Ronaldo allora veramente si chiama Vermesette ma allora noi non siamo aziendalisti noi siamo veri Juventini se dovesse anche un'altra cosa se dovesse anche andare via paratici festeggerò insieme a questo grande amico Gaetano Scalabra allora la squadra viene prima di tutto ragazzi dico dico solo questo certo i giocatori passano gli allenatori passano anche la società passa anche i presidenti passano ma la Juventus resta ragazzi questo è un video dedicato quelli che sono veri Juventini e non aziendalisti soprattutto caro Gaetano Scalabra questo video te lo dedico a te io sia in caso di lui guarda se dovesse andare via Ronaldo dico solo che lo ringrazierò ma io non sono uno che tratta male le persone ok ragazzi adesso non ho nient'altro da aggiungere io spero che il video di oggi vi sia piaciuto vi invito che lasciate un like al video commentate qua sotto condividetelo se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti se siete appena iscritti cliccate la campanella per ricevere tutte le notifiche per i miei prossimi video che usciranno seguitemi sia su facebook che su instagram ci vediamo molto presto per i prossimi video e sempre fino alla fine forza Juventus alla prossima fino alla prossima Grazie a tutti.